Eccoci qua, buonasera, il telegiornale partirà da quello che è l'ordine sparso sul MES, sul meccanismo che dovrebbe portare alla, come si sa, una compensazione tra gli stati, il famoso Fondo Salva Stati. Sapete benissimo quello che è successo ieri tra Camera e Senato, sapete benissimo che c'è una divaricazione che si è anche vista sul video tra il Premier Conte e il Ministro degli Esteri Di Maio, che è il leader della forza politica che ha imposto la permanenza di Conte a Palazzo Chigi anche con la nuova formula giallo-rossa. E qui c'è stato, come potremmo dire, il ribaltamento di ruoli, lo scompaginamento di ruoli, il Movimento 5 Stelle. Nel primo governo, insieme a Salvini, alla Lega, aveva elaborato la riforma del MES affidata a Conte e al Ministro dell'Economia a Tria. Il PD era l'opposizione. Oggi ci si trova con Conte, che è spalleggiato sulla firma della riforma del MES dal Partito Democratico, ma sicuramente il Movimento 5 Stelle dice che ci sono delle criticità evidenti. Sono parole pronunciate, scritte dallo stesso Di Maio, che su questo ha trovato l'accordo espresso di Alessandro Di Battista, il che vuol dire che i 5 Stelle si ricompattano su un so-no al trattato, così come è adesso, e dicono che se cambia potremo rivedere la nostra posizione, ma intanto così non passerà. E questo evidentemente è una spina del fianco per Conte e per l'intero governo, che si trova in ordine sparso anche sulla vicenda della prescrizione, la cui riforma entra in vigore all'inizio dell'anno prossimo, il primo gennaio dell'anno prossimo, ma ci sono tensioni e questa volta è Italia viva, il partito di Renzi ha in qualche modo impuntarsi. Ma vedremo anche dell'altro, perché fino a oggi abbiamo parlato soprattutto della questione giudiziaria che riguarda proprio Renzi, la questione della fondazione Open. Oggi c'è un'altra vicenda che riguarda Conte, perché la trasmissione Le Iene ha trovato un documento e che sembrerebbe smentire quello che aveva lo stesso Premier detto riguardo ai suoi rapporti col professor Alpa, che era stato nella commissione che l'aveva promosso a professore ordinario. Non abbiamo mai lavorato insieme, un documento lo smentirebbe. Vedremo di che cosa si tratta, ma poi andremo là dove è Conte questa sera, Buckingham Palace, dalla regina Elisabetta, ricevimento ufficiale per i leader dei paesi della Nato. Una festa, si fa per dire, perché la tensione è fortissima ed è stata espressa a parole, male parole, soprattutto tra Macron e Trump. Mentre a Madrid, al Congresso internazionale sul clima, c'è un documento che fa rabbrividire dell'Organizzazione Mondiale degli Scienziati sul cambiamento climatico. Ma avremo anche tempo di guardare quelle che sono le novità sull'indagine, sul delitto di Roma, l'uccisione di Luca Sacchi. Oggi interrogatori sono tutti avvalsi della facoltà di non rispondere per gli arrestati, mentre l'informativa, che è diventata nota, dei carabinieri presenta elementi di novità forti. E parleremo anche delle prove fatte ieri sera, tardi, a Venezia, del Mose. A quanto pare può funzionare. 30 secondi i titoli. Conte prova a ridimensionare le tensioni sul MES. Parla di sensibilità diverse tra alleati. smentisce contrapposizioni con Di Maio e dice di volerlo firmare. Ma il capo dei 5 Stelle, appoggiato espressamente, esplicitamente da Di Battista, è di tutt'altro parere. Siamo noi l'ago della bilancia e decideremo come e se dovrà passare, dice Di Maio. Salvini attacca, per noi la riforma del Fondo Salva Stati non è emendabile, è da bloccare, punto. Maggioranza divisa anche sulla prescrizione alla Camera. 5 Stelle, PD e l'EU votano contro la richiesta urgente di Forza Italia di bloccare l'entrata in vigore della riforma il primo gennaio. Italia Viva di Renzi decide di non partecipare al voto per evitare un no che avrebbe messo in difficoltà il governo. Il PD chiede garanzie sulla durata dei processi. Una parcella intestata sia al Premier Conte sia all'Avvocato Alpa per un incarico del 2002 proverebbe la collaborazione, il comune interesse economico tra il Presidente del Consiglio e il suo mentore. Risale a sei mesi prima del concorso universitario di Caserta con il quale Conte si assicurò la cattedra di diritto privato con Alpa a capo della Commissione. Il documento raccolto da lei ieri smentirebbe le versioni del Premier. È solo un progetto di parcella e non una fattura unica, replica Palazzo Chigi. Polemica durissima tra Trump e Macron al vertice nato di Londra. Il Presidente francese ribadisce che le critiche all'Alleanza Atlantica, così come è, è inutile, detto Macron, e sono tuttora valide. Parole offensive e sgradevoli, ha replicato il Presidente degli Stati Uniti. Dopo il faccia a faccia pomeridiano che non ha stemperato le tensioni, Trump e Macron con tutti gli altri leader dell'Alleanza si ritrovano questa sera a cena dalla regina Elisabetta. Nell'informativa dei carabinieri le testimonianze che hanno permesso di chiarire la dinamica dell'omicidio di Luca Sacchi. Oggi davanti al Jeep è comparso Valerio Delgrosso, il ragazzo che ha sparato a Sacchi. Si è avvalso come gli altri della facoltà di non rispondere, ma ha rilasciato una dichiarazione spontanea. Non volevo ucciderlo, era la prima volta che usavo un'arma. Domani sarà interrogata Anastasia, la fidanzata di Luca Sacchi. Venezia è andata bene, la prova generale del Mose, la diga che dovrà salvare la città lagunare dall'acqua alta. La scorsa notte i tecnici hanno verificato il pieno funzionamento delle 19 paratoie. Un momento storico per Venezia, ha detto il Sindaco Brugnaro, anche se tra gli abitanti e c'è ancora molta cautela. Ultimi giorni della nostra sottoscrizione con il Corriere della Sera pro Venezia. Buonasera, e quindi sempre il meccanismo europeo di stabilità, il Fondo Salva Stati, ma lo conosciamo tutti, ne parliamo tutti con il suo acronio, cioè il MES al centro dell'attenzione e dello scontro politico. A nessuno è sfuggito che ieri. Non si può dire che Conte e Di Maio parlassero due lingue diverse soltanto perché Conte ha parlato e Di Maio è stato completamente zitto e non lo ha neanche applaudito al termine della sua informativa alla Camera. Ancora più chiaro oggi che parlano due lingue diverse perché Conte ha riaffermato che è a favore del trattato e Di Maio assolutamente, così come ora, no. Qualcuno ha sintetizzato che io parlassi a nuora perché intendesse suocero o viceversa e addirittura si è descritta una contrapposizione tra me e Luigi Di Maio, una carenza addirittura informativa. Sono i giornali che hanno forzato le cose. Nessun contrasto spiega da Londra Giuseppe Conte. Il Premier, insomma, non si sente isolato. Quell'impressione passata ieri dalla Camera al Senato con il solo Partito Democratico a difendere le ragioni del Governo sul meccanismo europeo di stabilità è sbagliata. O così Conte prova a risolvere il caso che riapre però quando aggiunge un paio di dettagli. Il primo, il Governo ha una posizione che è stata concordata in un vertice di tre ore. Alla fine di quel vertice domenica scorsa Di Maio diceva una cosa, Franceschini un'altra. Non solo lo stesso Conte. Nella stessa intervista dice questo. Se poi mi parlate che ci sono delle differenti sensibilità tra le forze di maggioranza o all'interno di una forza di maggioranza, ci sono quei temi su cui ovviamente ci sono tante valutazioni che si possono fare a secondo dei punti di vista. Sensibilità diverse che hanno portato questa mattina Luigi Di Maio a scrivere un lungo messaggio sulla sua pagina Facebook dove era difficile trovare una parola di sostegno alla posizione del Governo sul MES. Così com'è non conviene al nostro Paese e non è possibile votarlo. Sapevamo che era all'interno di un pacchetto che prevede la riforma dell'Unione bancaria e l'assicurazione sul deposito. Per il 5 Stelle queste tre cose vanno insieme e non si può firmare solo una cosa alla volta. Il Movimento continua ad essere ago della bilancia, decideremo noi come e se dovrà passare la riforma. L'avvertimento di Di Maio che sembra un ultimatum, non proprio una richiesta di confronto tra chi ha sensibilità diverse. La posizione durissima poi viene condivisa e rilanciata da Alessandro Di Battista che lascia questo commento inequivocabile sulla pagina Facebook di Di Maio. Concordo così, non conviene all'Italia, punto. Scrive proprio così, non conviene, punto. È un caso ma sono quasi le stesse parole che usa Matteo Salvini, leader dell'opposizione arci nemico di Conte. Dal nostro punto di vista non è emendabile. È da bloccare punto. Salvini come Di Battista che condivide Di Maio alla fine del giro. Nonostante i suoi tentativi di evitare il muro contro muro, al fianco del Presidente del Consiglio rimane solo il Partito Democratico. Sul MES abbiamo fatto un vertice in cui si è decisa una linea comune, dice infatti Nicola Zingaretti. Parole queste in perfetta sintonia con Conte. Deciderà comunque il Parlamento, aveva detto Conte, conferma Zingaretti. Il Parlamento si esprimerà tra otto giorni alla vigilia del vertice europeo che dovrebbe dare il disco verde alla riforma. Assemblea sovrana, che a questo punto rischia di certificare una rottura insanabile interna alla maggioranza, a meno di novità sostanziali. Domani qualche indizio sulla possibilità di modifiche potrebbe arrivare dalla riunione dell'Eurogruppo alla quale partecipa il Ministro dell'Economia, Gualtieri. Insomma dire che c'è unità di vedute è veramente non guardare alla realtà, che poi ci possa essere la crisi, questo è un altro discorso, ma sicuramente l'11 dicembre ci si troverà di fronte a una scelta, non si potrà dire lo firmiamo e contemporaneamente non lo firmiamo. Ma come stiamo per vedere ci sono altri elementi di discrepanza o di dissidio forte all'interno della maggioranza di governo su un altro tema, un tema che è importante, quello della riforma della prescrizione. Maggioranza divisa per rimanere in piedi, 5 Stelle e PDL EU bocciano in aula alla Camera il blitz di Forza Italia per rimettere subito in pista la proposta di legge firmata Enrico Costa per non far saltare la prescrizione. Ma Italia viva si sfila e non partecipa al voto. Il partito di Renzi, contrario all'entrata in vigore dello stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado ereditato dallo scorso governo e previsto per il 1 gennaio 2020, decide la Sminut di non partecipare al voto solo per evitare un no che avrebbe messo a rischio la maggioranza. Il rinvio passa con 269 no, 5 Stelle e PDL EU e 219 sì del centro-destra. Ma anche i Dem, che pur hanno votato con gli alleati, non intendono ingoiare il rospo. In un clima inacidito dalla vicenda messa scelgono questo terreno per battere un colpo e non rimanere schiacciati tra le fughe in avanti di Renzi e i no dei 5 Stelle. E il segretario Dem Zingaretti a spiegare. Oggi il PD si è confermato forza leale con la maggioranza, ma riteniamo inaccettabile l'entrata in vigore delle norme sulla prescrizione, senza garanzie sulla durata dei processi. Senza un accordo nei prossimi giorni, il PD presenterà una sua proposta di legge. Si lavorerebbe anche ad un emendamento da inserire già nel mille proroghe per mettere nero su bianco il rinvio dello stop alla prescrizione di buona fede. Una minaccia non troppo velata. Il centro-destra alla ricerca di un incidente per il governo, infatti, è pronto ad offrire una sponda ai numeri necessari in Parlamento su questo tema. DNA degli azzurri garantisti che domani saranno alla maratona dei penalisti davanti alla Cassazione, dove arriveranno anche i renziani. Non a caso è un parlamentare forzista che ha messo sul piatto la proposta di legge per stoppare l'entrata in vigore del testo votata oggi, il che rende le parole di Zingaretti più insidiose di fronte ad un alleato di Maio che anche su questo tavolo non sembra disponibile a nessun cedimento. E il guardasigilli buona fede prova a rilanciare. Bene la compattezza della maggioranza, ora un buon momento per chiudere sulla riforma del processo penale. La rinuncia allo stop alla prescrizione sarebbe un passo indietro, mentre siamo a pochi passi dalla svolta. Torna a una vicenda che è molto poco chiara e che sin dal suo apparire ha provocato polemiche ed è delicata perché riguarda il Presidente del Consiglio. Ha mentito sul suo curriculum, ha fatto qualcosa che non doveva fare per diventare professore, per salire in cattedra. Secondo una trasmissione che ben conosciamo, le Iene, sì. L'hanno già ribattezzata la parcella fumante, per le Iene la prova del rapporto di collaborazione professionale tra l'avvocato Giuseppe Conte e il suo mentore Guido Alpa, che smentirebbe la versione fornita un anno fa dallo stesso Premier. La storia è questa. In un articolo di Repubblica dell'ottobre 2018 a Giuseppe Conte viene rinfacciato il legame professionale con il professor Alpa, che faceva parte della commissione che lo nominò nel 2002 professore di diritto privato all'Università di Caserta, circostanza che, se dimostrata, poteva invalidare lo stesso concorso. Conte, che nel suo curriculum segnalava nel 2002 l'apertura di un nuovo studio legale con lo stesso Alpa, aveva spiegato che si trattava di uno studio condiviso, che tra lui e il professore non c'erano legami professionali, ma erano solo coinquilini, che utilizzavano la stessa segreteria. Le Iene si sono concentrate su una causa alla quale sia Conte che Alpa lavorarono. Intentata dall'autorità garante della private, nei confronti della Rai. Due incarichi distinti, aveva spiegato Conte, che alla domanda se fossero stati liquidati con due distinte fatture aveva risposto di non poter produrre il documento. Il professor Alpa non ha risposto alle domande delle Iene e si è opposto alla pubblicazione della fattura. Documento che le Iene oggi mostrano, un prospetto di parcella unica intestato ai due avvocati, Guido Alpa e Giuseppe Conte, l'indicazione di un conto comune e, in fondo, le firme di entrambi. La prova che smentirebbe la versione del premier, e cioè che non vi fossero interessi economici in comune, che non vi fosse incompatibilità del professor Alpa nel giudicare Conte al concorso universitario. Da Palazzo Chigi, di dimensione alla portata del documento, si tratta di un progetto di parcella, non di una fattura unica. Abbiamo già detto che eravamo coinquilini, quindi la segretaria comune, secondo lei, in due secondi, a secondo... No, professore... Mi faccia finire però... Un attimo, qui c'è una carta intestata... Adesso arriviamo... Aspetta, aspetta... Parliamo della carta intestata, la carta intestata col computer oggi la cambi decima volte... No, ma c'è anche la firma, firma del professor Alpa, quindi adesso faccio la domanda. Perché non firmavamo, scusi. Vedremo come andrà avanti questa vicenda, ma intanto Conte, insieme a tutti i capi di Stato e di governo dei paesi che aderiscono all'Alleanza Atlantica, in questo momento a Buckingham Palace, Londra, ricevimento della regina Elisabetta per i partecipanti al vertice della Nato. Ma è una cena con sorrisi solo formali, se non nei confronti ovviamente della nobile padrona di casa. 70 anni portati in un proprio benissimo, perché l'Alleanza Atlantica, a dispetto delle celebrazioni di queste ore a Londra, non è mai apparsa divisa come adesso, quasi sull'orlo dell'implosione, lacerata da dispute continue e incapace di giocare un ruolo determinante su uno scacchiere geopolitico in continua evoluzione. Ad agitare ulteriormente le acque, la presenza destabilizzante del campione dell'unilateralismo, Donald Trump il primo ad arrivare nella capitale britannica con un bersaglio preciso da colpire, il presidente francese Macron, colui che aveva parlato dopo l'offensiva turca contro i kurdo siriani di una alleanza in stato di morte cerebrale, vista l'assenza di visione strategica dovuta soprattutto al mancato coordinamento di Washington con i partner. Parole molto offensive, secondo l'inquirino della Casa Bianca, il quale ha detto che la Nato ha ancora un grande scopo da servire. Uno scontro che il faccia a faccia pomeridiano tra i due contendenti non è servito granché a far rientrare perché, pur nella sostanziale cordialità dei modi, il presidente francese è, parole sue, rimasto fermo sui suoi commenti. Sullo sfondo, ma neanche tanto la minaccia con la quale Trump si è fatto accompagnare in Europa, quella di imporre dazzi del 100% su quasi 2 miliardi e mezzo di dollari di export francese oltreoceano, qualora Parigi non tornasse sui suoi passi rispetto alla tassazione sui giganti del web. Rappresaglia che potrebbe riguardare anche altri paesi, Italia in primis, che stanno seguendo quella strada. Risolveremo le nostre dispute, ha affermato Trump. La tassa non colpisce specificamente le aziende statunitensi, ha replicato Macron. La distanza tra i due però resta così come quella tra Stati Uniti ed Europa sul commercio, sugli impegni finanziari con la Nato che alcuni paesi ha accusato Trump non rispettano e sulla Cina, ritenuta da Washington, una minaccia alla sicurezza. E poi c'è un'altra gigantesca questione, quella relativa alla Turchia, paese che ha il secondo esercito dell'alleanza atlantica ma che si comporta come se non ne facesse parte e non esita a minacciare, di bloccare i piani per la difesa di Polonia e paesi baltici se gli alleati non riconosceranno le unità di protezione popolare kurdo-siriane come gruppo terroristico. Ankara sta combattendo contro chi ha lottato spalla a spalla con noi contro l'Isis e qualche volta coopera con alleati dello Stato islamico. Questa la replica di Macron non proprio cortesie tra alleati. Intanto a Washington la commissione della Camera dei rappresentanti incaricata di seguire la vicenda del possibile impeachment nei confronti di Trump ha concluso i suoi lavori e ha rilasciato un rapporto che documenterebbe che effettivamente ci sono elementi per l'impeachment di Trump per l'abuso di potere compiuto con le pressioni nei confronti della presidenza ucraina riguardo alle vicende che riguardano, come sappiamo, riguarderebbero il figlio di un suo probabile rivale nella corsa alla Casa Bianca, il figlio cioè di Joe Biden. Ma il mondo è attento a quello che sta succedendo al vertice della Nato, attento a quello che succederà l'anno prossimo nella corsa alla Casa Bianca, meno attento a un appuntamento che è in corso invece a Madrid, quello riguardante l'ambiente, la sfida mondiale e contro il cambiamento climatico. Eppure proprio oggi è arrivato un documento agghiacciante. 34 pagine, grafici, analisi dettagliate, stime. È il rapporto annuale sul clima presentato dall'ONU e redatto dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale. 34 pagine per dire ancora una volta quello che è evidente, ovvero che le temperature si sono alzate, anzi che la decade 2010-2020 è destinata a essere la più calda della storia. Che i ghiacciai si stanno sciogliendo, il livello dei mari alzando, i fenomeni estremi si moltiplicano e la desertificazione avanza. Fa di più però il rapporto presentato al secondo giorno di lavori della Climate Change Conference, ovvero COP25 di Madrid, perché individua anche le cause di questi mutamenti e sono tutte antropiche, ovvero legate all'uomo. Emissioni di CO2 dovute all'uso di combustibili fossili, aumentano delle infrastrutture, consumo di suolo, estensione delle aree coltivate, merci che viaggiano. E così, in questo inseguirsi di record, il 2019 potrebbe essere il secondo anno più caldo da quando si è iniziato a registrare le temperature, suona ancora più stridente il contrasto fra quanti siano i paesi che abbiano almeno sviluppato un piano nazionale per fronteggiare i cambiamenti climatici, per non parlare di quanti abbiano finanziato tali iniziative. Poco meno del 38%, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che si fa carico di sottolineare anche come i rischi del Climate Change legati alla salute colpiscano soprattutto le popolazioni più debole, quelle che per ironia della sorte spesso contribuiscono di meno o per nulla ai suddetti cambiamenti. Comunque, a Madrid intanto il re Felipe riceve i suoi ospiti. Saluta Nancy Pelosi, speaker della Camera degli Stati Uniti, qui, nonostante l'annuncio di Trump di volersi sfilare dagli accordi sul clima, quelli presi nel 2015 a Parigi e mai rispettati. Dovevamo contenere l'innalzamento delle temperature al massimo di un grado e mezzo, due entro il 2100, dice il segretario generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, ma nessuno è sulla strada giusta. Greta, sbarcata a Lisbona venerdì, arriverà a Madrid. L'accoglienza è grandiosa, ma lei ha già detto che non farà sconti a nessuno. Le avanguardie della protesta oggi erano già in piazza. Torniamo in Italia, la cronaca, Roma, il delitto, l'uccisione di Luca Sacchi, oggi l'interrogatorio di garanzia per gli arrestati. L'unica a parlare è stato Valerio Del Grosso, l'uomo che gli inquirenti considerano l'assassino materiale di Luca Sacchi, il personal trainer di 24 anni, ucciso con un colpo di pistola alla testa della notte dello scorso 23 ottobre fuori da un pub nel quartiere Appio Latino di Roma. Durante gli interrogatori di garanzia, prima di avvalersi della facoltà di non rispondere, Del Grosso ha letto una dichiarazione spontanea. Poche parole che non si discostano da quanto detto nell'udienza di convalida del suo fermo a pochi giorni dall'omicidio. Parole alle quali i magistrati ora come allora faticano a credere. Era la prima volta che prendevo un'arma in mano, non volevo uccidere. Poi Del Grosso è rimasto in silenzio una scelta, quella di non rispondere alle domande degli investigatori che accomuna tutti e cinque gli arrestati nell'inchiesta sull'assassinio di Sacchi e detenuti nel carcere di Regina Celi. Sia Paolo Pirino che avrebbe partecipato al tentativo di rapina insieme a Del Grosso che Armando e Marcello De Propris hanno deciso di non parlare. Così come Giovanni Princi, amico di Luca, il 24enne che secondo gli inquirenti avrebbe gestito le trattative per l'acquisto della droga. 15 chili di marijuana in cambio di 70.000 euro. E' addolorato per la morte di Luca, dice il legale di quest'ultimo, al termine dell'interrogatorio ma nessuno ha risposto. Chiarimento arriva da parte di tutti loro su cosa sia successo quella sera sulla dinamica che ha portato al feroce omicidio e sull'ipotesi di dietro la cifra messa insieme per comprare la droga ci sia un finanziatore. Quelle stesse domande domani i magistrati proveranno a porle ad Anastasia Kilemnik, la babysitter di 25 anni fidanzata di Sacchi. La sua ricostruzione, il semplice tentativo di rapina fuori dal John Cabot da parte di sconosciuti, è stata smentita da testimoni e intercettazioni e ora si attendono gli esami tecnici sul cellulare che l'è stato sequestrato. Ulteriori elementi che potrebbero fare chiarezza sull'omicidio di Luca. Anche senza la coraggiosa denuncia della madre e del fratello di Valerio Del Grosso, il ragazzo che ha ucciso Luca Sacchi, il caso si sarebbe risolto con rapidità. Sono molte e molto dettagliate le testimonianze raccolte dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma dopo l'omicidio del 23 ottobre. L'informativa destinata alla dottoressa Nadia Plastina riporta le parole di un amico di Federico Sacchi, il fratello di Luca, annotato sul collo di uno degli aggressori, poi individuato in Paolo Pirino, un tatuaggio a forma di chiave di violino. Il fotosegnalamento chiarirà che non si tratta di un riferimento musicale, e bensì della frase «chi non rischia non vince». Parlando sempre di Pirino, un altro testimone precisa che l'aggressore impugnava l'oggetto metallico con entrambe le mani, motivo per il quale aveva ritenuto che si trattasse di un oggetto pesante. Un uomo che passava nell'imminenza dei fatti ha fornito le foto della scena, Anastasia sdraiata sul corpo esanime di Luca, non indossa alcuno zaino perché Del Grosso e Pirino gliel'hanno strappato per andare a buttarlo via, dopo essersi presi i 70.000 euro necessari a comprare i 15 kg di marijuana. Soldi svaniti nel nulla. Anche un negoziante ha aiutato. Nel video del sistema di sorveglianza si nota poco prima dell'aggressione il transito in via Franco Bartoloni di una smart modello 4-4 di colore bianco e col tetto nero, la macchina di Pirino. Il primo testimone a essere sentito è ritornato dai carabinieri per aggiungere dettagli, mentre era all'angolo di fronte al pub con Luca Sacchi e Anastasia Kilemnik era sopraggiunta un'autovettura fermatasi in doppia fila. Qualche istante dopo aveva udito una persona urlare con chiaro accento romano «Dacce la borsa!». Si era girato e aveva visto una persona colpire con una mazza di colore nero Kilemnik alla testa tentando nel contempo di strapparle lo zaino. Il testimone, scrivono i carabinieri, ha visto poi Sacchi e Luca intervenire in difesa di Anastasia spingendo a terra l'aggressore e stava per bloccarlo quando alla sua destra era sopraggiunto un altro ragazzo che aveva alzato il braccio e puntato una pistola in direzione di Luca. A quel punto, per la paura, il test era fuggito nascondendosi dietro a un'auto parcheggiata. Di lì aveva notato il secondo soggetto armato sparare a Luca. È allarme da parte delle organizzazioni sindacali e non soltanto per il severo piano di ristrutturazione annunciato da Unicredit durante la presentazione del piano strategico per il prossimo triennio. Un risparmio lordo di un miliardo di euro, in parte ottenuto attraverso la riduzione di 8.000 dipendenti e 500 filiali, soprattutto in Germania, Austria e Italia. E sembra che proprio sia l'Italia il paese più colpito dai tagli. Circa 5.500 posti di lavoro in meno e 450 filiali chiuse. È ovvio che immediata è stata la protesta da parte delle rappresentanze sindacali sia di categoria sia per quanto riguarda i leader delle organizzazioni sindacali che hanno detto che neanche se ne parla di un piano di questo tipo. Vedremo. Andiamo a vedere ora però un altro fatto che riguarda il mondo dell'imprenditoria ma anche quello dell'informazione. Chi è affezionato al rito mattutino della carta se ne accorgerà, forse no, però è giusto ricordargli che una bella parte dei giornali che troverai in edicola cambia padrone. Uno in effetti fa la differenza perché è un quotidiano simbolo, non si ignora. Indipendenza, autonomia, tutto si tutelerà ma che Repubblica al secolo giornale partito questo padrone lo cambi, fa notizia e la farà anche dopo. Dai De Benedetti si passa agli agnelli e cosa solo oggi ufficialmente è masticata in borsa con un rialzo di oltre il 60% del titolo Gedi, lo scrigno editoriale controllato dalla CIR e ora in rotta verso Torino. 46 centesimi ad azione, un premio estremamente generoso, pagato rispetto alla chiusura di venerdì. Come dire, io quella cosa la voglio veramente e pago per averla. OPA poi del listing, cioè quel che è sul mercato verrà acquistato e fatto sparire dalla borsa. Operazione da oltre 100 milioni di euro. Ci si chiede se convenga. A chi vende sicuro ma a chi compra? In un paese che legge sempre meno, che non sa più nemmeno leggere, come dice oggi l'Ocse a proposito dei giovani italiani, ci si chiede se abbia senso rilevare giornali. Quindi Espresso, secolo XIX, una miriade di locali, la stampa, due radio importanti e poi lei, Repubblica, ok, la storia. Finita sul piatto di una grande operazione finanziaria che non si vedeva da tre anni e mezzo, da quando Urbano Cairo, editore anche di questo telegiornale, acquisì il controllo di RCS, dunque del Corriere della Sera, con l'appoggio di Banca Intesa. Qualcosa di rivoluzionario successe e succede anche adesso, però c'è più silenzio. Perché al di là della disputa familiare tutta interna alla famiglia dei Benedetti con il papà Carlo, l'ingegnere che Repubblica se la voleva addirittura ricomprare, accusando i figli di non aver ben gestito quel che per un quarto di secolo era stato vanto, il tema fa pensare. L'erede in campo dell'avvocato John Elkan dice che il giornalismo di qualità ha un grande futuro, però parla di trasformazioni sul piano tecnologico, organizzativo, non si ignora, fa pensare. E fa pensare il momento scelto dalla Exor degli Agnelli, già proprietaria dell'Economist, per portarsi a casa un grande bottino di opinione e di cultura nell'immaginario, più a sinistra che a destra. Un momento segnato dalla fusione della Fiat che fu con i francesi di Peugeot. Anche questo non si ignora. E andiamo a Venezia perché questa notte si è provato ciò che potrebbe salvare la città lagunare. Quando anche l'ultima paratoia è sbucata dall'acqua a tre metri sopra la superficie, era da poco passata la mezzanotte, in ritardo rispetto alla tabella di marcia, il test era iniziato alle 20.30 per colpa di una valvola che non si chiudeva da remoto e c'è stato bisogno dell'intervento di un tecnico. Ma ecco alla fine tutte le 19 paratoie allineate lungo la bocca di porto a Malamocco, la più profonda della laguna con 14 metri di fondale. Questo scudo giallo di 380 metri, lungo quanto il canale, è un pezzo di mose, una delle tre barriere destinate a proteggere Venezia dall'alta marea. Nonostante la bora che soffiava a 50 km orari il mare agitato e senza la spinta della marea le paratoie hanno superato l'esame, il primo dai giorni dell'acqua alta. Per Malamocco il terzo test dopo i 2 di ottobre, sospesi perché nei tubi dove passa l'aria sparata dai compressori per alzare le barriere c'erano state vibrazioni forti, hanno tenuto le staffe posizionate per stabilizzare le pompe d'aria in fase di discesa, il momento più delicato perché insieme all'aria nei tubi passa anche acqua. Insomma l'operazione è riuscita sotto gli occhi di molti curiosi e un gruppo di ambientalisti accorsi sul molo a vedere da vicino una serata evento presidiata da polizia e guardia costiera con lo spazio di navigazione interrotto fino alle 6 di questa mattina quando il canale è tornato navigabile. Soddisfatto Giovanni Cecconi, ingegnere oggi in pensione e che per 30 anni ha lavorato alla realizzazione del progetto Mose. Io sono con Mose perché dopo aver studiato per 30 anni sono qui con i cittadini e finalmente la mia idea di dare un servizio alla città si sta incominciando a concretizzare. In una sorta di control room dove dai computer i tecnici azionano gli scudi gialli mentre un'altra squadra lavorava sott'acqua, ha seguito le fasi più delicate della serata anche il sindaco Luigi Brugnaro. Si tratta di un momento storico per Venezia, il Mose è un'opera ingegneristica unica, dobbiamo terminare i lavori e metterlo in funzione, sarà il simbolo della resilienza, ha detto Brugnaro. Tra i veneziani resta lo scetticismo, funzionerà nel momento dell'emergenza? E intanto ha funzionato la nostra sottoscrizione che arriva alle sue ultime 48 ore promossa dal nostro telegiornale e dal Corriere della Sera, un aiuto subito per Venezia. Ancora potete visualizzare, fotografare o andarlo a cercare sui nostri siti quell'Iban per poter dare un ultimo contributo in queste ultime 48 ore di sottoscrizione. Ma già noi ringraziamo i tantissimi che hanno voluto aiutare e vi diremo proprio entro questa settimana che cosa faremo con tutti quei soldi che la vostra generosità ha potuto permettere di mettere insieme. Dopo di noi, a otto e mezzo, Lily Gruber ospita Monica Guerritore, Marco Travaglio e Beppe Severgnini. E a di martedì c'è Luigi Di Maio tra gli ospiti di Giovanni Floris, ma c'è anche Mattia Sartori e c'è Carlo Calenda. Ci fermiamo. E infine siamo alle borse. Vediamo subito come ha chiuso Milano praticamente in parità più 0,03 l'indice finale Fuzzi-Mib con lo spread a 163 punti base. In questo momento in negativo marcato New York, a Wall Street, il Dow Jones perde l'1,32%, il Nasdaq lo 0,95. È tutto. Gruber, Floris, ci vediamo domani sera. Buonasera.